La Terra è il pianeta su cui vive l'umanità. Il terzo in ordine di distanza dal Sole è l'unico corpo planetario del Sistema Solare adatto a sostenere la vita. Una volta sì che ero bello, il pianeta azzurro mi chiamavano, ero tutto verde, no? Va bene che anche io ho i miei spazi d'umore, ma da quando mi sono preso questa umanità i problemi si sono moltiplicati. Il petrolio, come senz'altro lo saprete, è un combustibile fossile. Questo significa che quando brucia rilascia nell'atmosfera, ma l'atmosfera serve anche per riscaldarci, grazie all'effetto serra, che funziona più o meno così. Ma che cavolo vuol dire vivere in modo sostenibile? Qualcuno di voi lo sa? Mi si scioglono i ghiacci. Beh, mi libero dal prurito scatenando qualche uragano. Pensate che hanno imparato ad utilizzare l'energia del Sole. E indovinate da chi l'hanno imparato? Oh, quindi dico io, ci sarà un modo per farsi di nuovo la terra a vita e vivere armoniosamente con essa.